noooo che carino io ormai faccio i video anche ai bagni ma questo è troppo carino siamo in un ristorante a chingating island in virginia nooo che carino c'è tutta l'acqua cosa c'è qua? niente chi dice? hot water is very hot nooo come è grazioso e guardate questo tavolino perché siamo sul mare quindi è tutto stile marinaro molto carino grazie grazie grazie